Credo che sarà un cammino lungo e faticoso e vedremo cosa ci riserverà il tempo futuro. Noi quello che pensiamo è che in questo momento vi è un centrodestra riformatore che sta migliorando le cose in Italia. Stiamo abbassando le tasse, stiamo cambiando le regole del mercato del lavoro, stiamo dando soldi alle neomamme, stiamo facendo delle politiche sulla sicurezza molto importanti, stiamo facendo la lotta all'abusivismo per chi occupa abusivamente gli immobili facendo leggi e facendo azioni, stiamo facendo cose di centrodestra e queste cose le facciamo collaborando con Renzi che non è esattamente un comunista. Dall'altra parte invece vi è una destra radicale che è la destra di Salvini e sono due prospettive diverse. Io penso che se il centrodestra del futuro vorrà vincere dovrà darsi una dimensione riformatrice di chi cambia le cose, di chi collabora con l'avversario in momenti congiunturali e di emergenza e al tempo stesso non chiude la prospettiva dell'unità del centrodestra e quelli lì siamo esattamente noi.